Ultimo weekend confinato ai suoi asporto e consegna a domicilio per i ristoranti pesaresi. Da lunedì ci si torna a sedere al tavolo a pranzo o a cena. O meglio, lo si potrà fare solo fra coloro che possono permettersi spazi all'aperto. Un problema ridotto in zona mare dove già dalla scorsa estate si presero accorgimenti allargando la possibilità di occupazione di suolo pubblico, situazioni invece diverse in centro storico. Noi già l'anno scorso abbiamo avuto una parte aggiuntiva esterna per l'emergenza Covid da parte del Comune che ci ha aiutato già tanto l'estate scorsa e speriamo possa essere importante anche quest'estate. È normale che con un coprifuoco alle 10 diventa tutto più complicato perché il coprifuoco alle 10 ma chi mangia deve alzarsi dal tavolo almeno alle 9 e mezza per essere a casa entro le 10. Quindi l'arario d'apertura nostro alle 7 o anticipare di mezz'ora, anticipo di mezz'ora ma non penso che siano in tanti a venire a mangiare alle 6 e mezza. Però la speranza è che sia un piccolo passo avanti verso una riapertura seminormale anche se la normalità ancora è molto lontana e c'è ancora questo discorso del andando avanti al dentro dentro non si può mangiare al chiuso, fuori sì e più avanti a pranzo si potrà stare aperti col dentro ma la cena no, ecco ci sono queste cose che sono incomprensibili, continuiamo a non capire. Allora questo provvedimento secondo me si giudica che è stato un contentino per la categoria visto la situazione che si è andati a manifestare a Roma e a bussare alle porte del nostro governo ci hanno dato un'apertura anticipata su quelle che erano invece le parole di un mese fa. Questo vuol dire che con gli spazi esterni io fortunatamente qualcosa ho, non mi lamento per questo però capite che posso capire chi non ce li ha, in più chi non ha spazio da usare esternamente, in più se ti piove o ti fa un brutto tempo diventa un problema. Insomma io credo che forse si poteva aspettare ancora una settimana, 10 giorni per dare più spazio, più possibilità di un'apertura graduale ma normale. Qui andiamo invece con tanti limiti che ci metteranno molto in difficoltà secondo me. La regola però rischia di fare figli e figliastri. chi non può per mettersi spazio all'aperto è costretto a tenere le serrande abbassate. È un problema, è un problema grosso perché purtroppo noi scoperti non abbiamo neanche niente, niente, niente perché il riservano Bruno è impossibile mettere la macchina e i tavolini perché passano le macchine di continuo, quella questura non va ben altro. Abbiamo chiesto aiuto e nessuno si aiuta, quindi non ci sa come fare. Il copio fuoco alle 10, chi fanno aprire solo a Francia, da noi a Francia all'estate non viene nessuno, quindi è come, ci tocca stare chiusi, è vero come va a finire. C'è chi non può tenere spazio all'aperto e chi lo farà fra i tanti dubbi sulla tipologia di Deor consentiti. Allora, noi ieri abbiamo avuto uno Zoom con il vicepresidente della FIPE Aldo Cursano che ha dato un'interpretazione leggermente difforme da quella che noi sentiamo da parte dei responsabili, quelli con cui noi andiamo a interagire. Oggi ci sarà un incontro fra Sua Eccellenza il prefetto e i sindaci che dà un indirizzo di base a tutti. Noi come stamattina, come Commercio, abbiamo già mandato una richiesta per capire che cosa si intende con la parola Deora. Se avessero messo all'interno del decreto, invece di usare paroloni facilmente interpretabili e difficilmente gestibili, avessero detto si mangia all'aperto, noi sicuramente avremmo usato i cortili e tutte le parti dove praticamente le barriere laterali venivano tolte e la persona poteva mangiare tranquillamente. Questo è l'emblema di un anno e mezzo di malgestione. Cioè noi ogni giorno che passa dobbiamo rispondere a quesiti da parte degli operatori, mandare facca al governo per avere quelle delucidazioni, le risposte che onestamente non siamo in grado di dare se le cose fossero fatte in maniera molto più elementare, molto più semplice. Sicuramente noi diremo sì o no. Mirko Carloni, a nome della Regione Marche, ha cercato in giornata di fare chiarezza attraverso un video su Facebook. Questa mattina abbiamo ricostruito un'interpretazione che stiamo mandando a tutte le associazioni di categoria, ai comuni, in modo da dare un'interpretazione chiara e univoca. Per quello che mi hanno preparato gli uffici, su cui abbiamo condiviso una visione che all'aperto significa dove c'è anche una struttura che sia però aperta su almeno tre lati, dove si sia un dehors, un loggiato, un porticato, una veranda, può essere considerato l'aperto. Ecco, speriamo che questo chiarimento serva a rendere un po' più semplice questa riapertura per molti bar e ristoranti che attendevano un'ulteriore chiarezza sull'argomento. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!